Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, ottavo video della serie Acronimi Informatici. Ricordo che i video che fanno parte della serie Acronimi Informatici contengono al loro interno due parti. Una prima parte audio, con il contributo di qualche immagine, ed una seconda parte video. Allora oggi parliamo, perlomeno questo è nella norma ecco, oggi parliamo di memoria ROM. Allora, ROM, R-O-M, è l'acronimo di Read Only Memory, che in italiano significa memoria di sola lettura. È una memoria presente in moltissimi dispositivi tecnologici. La memoria ROM può essere confusa con la memoria RAM, ma sono in realtà due memorie che hanno un funzionamento differente fra di loro. Per quanto riguarda la memoria RAM, avevo già fatto un video, che ve lo lascerò in descrizione così potrete guardarlo. Comunque una differenza che distingue la memoria RAM dalla memoria ROM è che la memoria RAM è una memoria di tipo volatile, cioè conserva i dati solo fin tanto che viene alimentata. Una volta che non viene più alimentata, i dati contenuti all'interno della memoria volatile vengono perduti. Mentre la memoria ROM è un tipo di memoria non volatile e cioè contiene i dati anche quando non viene alimentata. Inoltre i dati contenuti nella memoria ROM non sono modificabili, o perlomeno non lo sono facilmente. In realtà possiamo anche dire che la ROM è una memoria di sola lettura solo per definizione, poi capirete perché. In un PC la memoria ROM può essere, per farvi un esempio, può essere presente nella scheda madre. In particolare può venire utilizzata per contenere il BIOS, che è il BIOS, un software integrato che gestisce le prime fasi di avvio di un computer, oltre a dare la possibilità agli utenti di modificare alcuni parametri tecnici e di tenere un po' sotto controllo queste opzioni. Oppure la memoria ROM può anche essere presente in altre parti. La funzione della memoria ROM è di contenere il firmware, ovvero il software fisso, che può essere un insieme di programmi preinstallati necessari per il corretto funzionamento del dispositivo. Appunto, come già detto, un esempio che calza il pennello è proprio il BIOS, perché è un programma preinstallato fisso che è necessario per far funzionare correttamente il computer. Il firmware del BIOS, pur essendo incorporato in una memoria ROM, può essere aggiornato, anche se comunque, aperta parentesi, è un'operazione che potrebbe comportare seri rischi al computer se non viene eseguita correttamente. Chiusa parentesi. ROM comunque potremmo dire che è un termine generico, perché in realtà esistono diversi tipi di ROM. Per fare alcuni esempi, possiamo citare la memoria MASK ROM, ROM a maschera, che è un tipo di memoria ROM nel quale i dati vengono scritti nella fase di fabbricazione. Però, dopodiché, non è più possibile cancellarli. Poi abbiamo la memoria PROM, ROM programmabile, che è un tipo di memoria nella quale i dati possono essere scritti, ma una sola volta dopo la fabbricazione. Poi abbiamo la EP-ROM, ROM programmabile e cancellabile. È una memoria ROM in cui i dati possono essere cancellati e riprogrammati più volte. Poi c'è la EEP-ROM, una E in più all'inizio, quindi no EP-ROM, ma EEP-ROM. ROM programmabile e cancellabile elettricamente è una memoria ROM molto simile alla EEP-ROM, ma cambia la tecnologia con la quale vengono cancellati e scritti i dati. Per ultima vi posso citare la memoria FLASH-ROM, che è un'evoluzione della memoria EEP-ROM e le memorie FLASH-ROM vengono impiegate nell'uso di moltissimi dispositivi, come per esempio USB e SD. Come abbiamo visto, anche se in tutti i casi stiamo parlando di memoria di sola lettura, di fatto non è una clausola, in quanto in diversi casi i dati possono essere riscritti. Poi, in base allo sviluppo della memoria ROM, possono essere riscritti più volte o meno volte. Ma quindi qual è una differenza tra questi tipi di memoria ROM? Una differenza è la modalità di cancellazione e scrittura dei dati, che avviene in maniera diversa per quasi ogni tipo di memoria, di particolare memoria. Per esempio, nell'EP-ROM la scrittura avviene tramite appropriate strumentazioni che producono elevate correnti che causano la fusione di alcuni piccolissimi componenti fusibili all'interno della memoria. Ognuno di questi componenti può rappresentare un bit che in questo modo viene scritto nella memoria. Nelle EEP-ROM, invece, la cancellazione dei dati avviene tramite raggi UV e nelle memorie EEP-ROM e FLASH queste procedure avvengono elettricamente. Però nelle EEP-ROM la procedura di scrittura è molto più lenta di quella della lettura, quindi risultano essere più lente rispetto alle FLASH-ROM in cui la lettura e scrittura è comparabile. Adesso passiamo alla parte video. Ed eccoci ritrovati per la seconda parte di questo video. In questa seconda parte andiamo a vedere un tipo di memoria ROM del quale abbiamo già parlato prima. Andremo a vedere la memoria ROM che contiene il BIOS, memoria ROM che è installata sulla scheda madre. Allora, per fare questa operazione accediamo all'interno del nostro computer fisso e andiamo ad identificarla. In questo caso è di facile identificazione, infatti, è proprio questa qui. Adesso ve la ingrandisco e ve la metto a fuoco. Eccola qua. Questa dovrebbe essere una memoria FLASH-EP-ROM in formato PLCC dotata di 32 piedini. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo guardato, ringrazio in particolare gli iscritti. Un saluto a tutti, arrivederci e al prossimo video.